Le piccole manine avvolte da guanti bianchi per cantare un messaggio forte e chiaro è possibile crescere insieme e superare ogni diversità. 300 i piccoli cantori dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca che si sono esibiti sul palco del Teatro Petrarca per il saggio finale del progetto Cresciamo in Coro. Hanno lavorato sia di tecnica vocale, hanno imparato a intonare, a fare esercizi ritmici e soprattutto quello che è stato bello è stato fare il coro insieme. Il nostro scopo è trasmettere la bellezza dello stare insieme, del noi e non dell'io e affiancati però ad un altro elemento molto importante per la nostra associazione che è appunto il linguaggio dei segni, la lingua dei segni. Durante le nostre lezioni, oltre ad insegnare i brani musicali e comunque le tecniche di respirazione, i vocalizzi, abbiamo insegnato anche la grammatica della lingua dei segni, la struttura della frase e quindi i bambini facendo musica si sono avvicinati alla LIS, la lingua dei segni italiana, sembrano due mondi così lontani e invece grazie al progetto Mani Bianche questi due mondi, musica e silenzio, si sono avvicinati. Sempre Fucci, 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 sempre Fucci, sempre Fucci, Fucci!